Mi chiamo Giovanni Pellino, so pronominato Neffa, ho avuto una vita prima del rap e una vita dopo il rap. Sono entrato nel rap come batterista e sono uscito come cantante facendo incazzare un po' di gente. Premetto che la mia presenza qua è soprattutto perché mi è stato chiesto di parlare del freestyle, perché altrimenti se si doveva parlare dell'hip hop ci voleva anche molta altra gente, quindi io penso di essere qua come rappresentante di una certa scuola vecchia di freestyle.